ed è una commozione che parla da sola quella della signora maria bruno che oggi è nostra ospite in studio buongiorno a tutti un saluto particolare a tutti i pugliesi anche a tutti i pugliesi del mondo perché è molto importante e mi sento orgogliosa di essere pugliese e voglio ringraziare andrea di questo bell'invito oggi grazie andrea lei in questi giorni ospite dei suoi parenti proprio a cassano il paese da cui è partita più di 40 anni fa che cosa significava essere emigranti fra alla fine degli anni sessanta io ti posso dire che è stata una brutta esperienza lasciare la mia famiglia la mia terra all'età di 18 anni andare incontro a un paese non conosciuto non conoscevo la lingua non conoscevo nessuno si passano tanti guai tanti sacrifici tante lacrime poi dio mi ha messo nella strada il mio bel marito pasquale bruno che sono sposata da 45 anni siamo sposati in tre mesi abbiamo fatto famiglia e lui è stato il primo che mi ha portato a questa chiesa italiana questa riù dove ci riuniamo tutti gli italiani ed è molto bello perché non abbiamo perduto le nostre tradizioni è infatti interessante la cosa interessante è questa cioè abbiamo visto con queste tradizioni in particolare quelle religiose hanno un ruolo fondamentale per mantenere l'identità della comunità a los angeles come in altri luoghi nel mondo cosa significa per voi perpetuare le feste patronali è una grande emozione anche un grande lavoro però con l'aiuto del mio comitato che un grande comitato belle porte riusciamo a fare tutto sai signor andrea tedeschi non è facile però ci riusciamo perché è molto bello portare la nostra tradizione in una terra straniera e i vostri figli cioè siete riusciti a trasmettere questa vostra voglia di celebrare i santi anche alle seconde generazioni sì i miei figli vedono tutto io che quando io preparo questa festa è come preparare un matrimonio ci vogliono mesi e mesi di lavoro a tante responsabilità il mio lavoro è sempre al telefono sempre impegnato con i preti allora loro stanno a capire tutto questo che io faccio perché loro non mancano mai a una festa di san padre pio vengono sempre anche i miei nipoti vengono mi aiutano fanno qualcosa e il mio desiderio è che si continua questa tradizione della santo padre pio in los angeles perché è troppo bello se noi ci fermiamo non c'è più niente non ci conosciamo più invece facendo queste feste ci riuniamo tutti quanti teniamo una bella musica c'è un bel pranzo caffè espresso italiano limoncello c'è tutto la gente viene si diverte e poi dopo diciamo quando si finisce questa festa che naturalmente si calcola tutto il resto conto ecco non so scusatemi sono tanti anni di america riesco anche a fare una colletta a mandarla a san giovanni rotondo all'ospedale che san padre pio ha creato e al reparto dei bambini perché i bambini e ti fanno tenerezza e pene poi bambini sono il nostro futuro lei aveva un sogno ricordo quando siamo venuti a intervistare a los angeles che era quella di portare al bano a los angeles per cantare in onore di san pio che è un sogno che in qualche modo si è avverato sì è un sogno che spero che sia vera perché ogni volta che gli parlo parlo con al bano perché ora tramite le telefonate l'email tramite le nostre visite siamo diventati amici e io gli parlo sempre di padre pio infatti padre pio è anche qua con me oggi lui mi segue sempre allora ogni volta che io parlo dal bano di padre pio padre pio cioè al bano è commosso pure perché lui ama padre pio mi ha fatto una promessa che non so se si può dire o no comunque fra due anni lui ha intenzione di fare un altro concerto allora io vorrei preparare una cena di beneficenza per la casa di sollievo e per aiutare la nostra chiesa di los angeles sempre torci e come ospite d'onore avremo al bano carisi da brindisi da celino san marco e questo io sono felice perché c'è molta fede ed è bello ed è bello portare tutto questo avanti cioè far far rivivere agli italiani tutto quello della nostra crescita qua quando eravamo bambini in italia se al bano viene al bano caprescio a opso e mi auguro con tutto il cuore che mi senti e la mia voce come quella di padre pio ringraziamo maria che porterà sicuramente i nostri saluti quelli di tutta.tv alla comunità italiana di california grazie non mancherò anzi se non ti dispiace vorrei fare un saluto ai miei amici perché non è solo san padre pio sono anche della storia dei pugliesi del sud california e sono anche segretaria volevo ringraziare salutare il presidente mi vito michele foschetti poi c'è giuseppe de ligio joe de ligio c'è joe cicci e tutto il gruppo tutto il resto un abbraccio forte vi bacio ciao ringraziamo maria e andiamo avanti con il telegiornale con il telegiornale